Il concetto di multidisciplinarità che poi trova negli multiple stakeholders ancora un ulteriore grado di complessità è cruciale oggi, non solo nell'affrontare le sfide quotidiane della medicina, ma ancora di più ritengo nell'affrontare le sfide che abbiamo di fronte in termini di ricerca. Oggi quello che ho detto effettivamente concludendo la mia presentazione è che ci vuole una alleanza etica già espressa nella società sicuramente per la cura dei pazienti, ma ritengo che invece nella ricerca che sta un passettino dietro non ci sia questa compiutezza di questa alleanza per affrontare sfide complesse che sono le patologie. E pertanto la proposta che facevo alla fine della mia relazione è proprio questa di avere delle alleanze etiche su temi definiti che sono poi ad esempio patologie specifiche dove network di ricercatori insieme a pazienti, aziende possono effettivamente avere un impatto trasformativo, che poi è una delle missioni maggiori che è all'università e penso che l'università ha un grande valore proprio in questo setting specifico della parte più avanzata della ricerca verso le soluzioni, nel caso della medicina, la cura o la prevenzione delle patologie. Grazie. 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 Grazie.